Aveva trasformato il terrazzo della sua abitazione in nascondiglio per la droga, ben tre chili di hashish già suddivisi in dosi da spacciare, 98 ovuli e 24 panetti. Ma per lui il business è finito e si sono riaperte le porte del carcere di Pescara. Si tratta di un 59enne noto alle forze dell'ordine uscito pochi giorni fa di prigione. I finanzieri del comando provinciale di Pescara hanno fatto irruzione nel suo appartamento a seguito di un'intensa attività investigativa svolta dalla sezione mobile del nucleo di polizia economico-finanziaria. Il blitz è rientrato nel piano d'azione definito drug market, volto proprio a contrastare e reprimere il traffico di sostanze stupefacenti. Grazie alla tecnica, osservazione, controllo e pedinamento, le fiamme gialle hanno stretto il cerchio attorno al 59enne e a suo figlio di 28 anni, che lo aiutava negli affari illeciti, giovane ma anche lui vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. per precedenti nel traffico di droga. Il padre ha consegnato spontaneamente mezzo panetto di hashish di 40 grammi ai finanzieri, discolpando il ragazzo. Durante le perquisizioni dell'auto, quelle personali e domiciliari, Daphil, il cane antidroga della finanza, ha rinvenuto la sostanza nella tettoia del terrazzo esterno, dosi del valore di mercato di oltre 10.000 euro. Mentre all'interno di una mensola vicino al frigorifero è stato ritrovato un bilancino di precisione. Tutto è stato immediatamente sequestrato. Per il padre, che già era stato arrestato in flagranza per traffico di droga dalla squadra mobile della polizia durante le vacanze di Natale, sono scattate le manette e l'ennesima traduzione nel carcere di Pescara.